Il Vescovo della Diocesi di Scalea, San Marco Argentano, Leonardo Bonanno, incorona la Vergine della Grotta di Praia Mare, un rito che si ripete da ben 110 anni e che ieri, domenica 17 maggio, è stato reso ancora più interessante dalla presenza del Vescovo che ha presieduto questa cerimonia simbolica ma importante per la città dell'isola, che porta sempre nel cuore la sua Madre Celeste. Ma la ricorrenza di ieri è caduta anche nel giorno in cui la Chiesa celebra l'ascesa di Gesù, una coincidenza che ha dato maggior significato all'intera giornata. Ecco, noi viviamo certamente l'anno liturgico per cui diamo precedenza priorità all'ascensione e vorrei dire anche di noi fedeli che se il Signore è salito al cielo la Madonna è rimasta, anche lui è rimasto risorto in mezzo a noi, ma la Madonna continua a intercedere perché il figlio sia conosciuto. Quindi è bella questa evoluzione mariana che si radica nella vita del figlio di Gesù. E poi l'incornazione è simbolica perché non c'è bisogno che ci siano oro o argento sul capo di Maria e di Gesù, quanto le nostre virtù che noi vorremmo offrire della Madonna ricavandone poi benedizione e grazie. Di solito sono venuto a Ferragosto, quest'anno avrò impegni altrove con i ragazzi del seminario, però di solito essere presente quindi vivrò anch'io questo momento solenne della comunità di Praia. La giornata si è conclusa con il consueto corteo per le vie del paese. Una processione disturbata dal vento che ha messo a dura prova i tanti fedeli che hanno partecipato, soprattutto coloro che hanno percorso l'intero tragitto con le cinte votive in testa. Ma la prova non ha scoraggiato nessuno, anzi è stata una festa di fede che ha coinvolto tutti, dai marinai all'Associazione Madonna della Grotta e i volontari che hanno preparato anche quest'anno la salata in onore di Maria, un tappeto di fiori che il vento ha solo accarezzato. È una gioia sempre grande poter accogliere l'immagine della Madonna, nostra patrona, per le vie della nostra comunità e nella chiesa parrocchiale, qui nella chiesa del Sacro Cuore. Ogni anno a maggio celebriamo, ricordiamo questo gesto, questo segno dell'incoronazione dell'immagine, del santo simulacro di Gesù, bambino e della Vergine Santissima. Quest'anno poi un anniversario particolare, il centodecimo anniversario nel ricordo proprio dell'incoronazione. Questo gesto che ricorda quello che hanno voluto fare i nostri nonni, i nostri padri, che nell'immagine della Madonna della Grotta hanno voluto riconoscere la propria patrona, la propria madre, custode, guida di questa comunità, di questo territorio di Praia. Questo gesto che è stato compiuto nel maggio 1905, abbiamo voluto riviverlo con la presenza del nostro Vescovo, un dono molto grande oggi alla nostra comunità, per le parole che ci ha donato, per la sua benedizione, il suo incoraggiamento, il suo grande amore al nostro santuario e con questo segno anche del vento, un po' di vento per le vie del nostro paese, abbiamo voluto leggere proprio il soffio dello spirito che Maria viene un po' a portare per le nostre famiglie, per ciascuno di noi, il risveglio che Maria viene a dare nella fede a tutta questa comunità. Grazie 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 Grazie